5. Una nuova comprensione Domanda Che differenza c'è tra il modo con cui noi partecipanti assimiliamo le vostre parole e il modo con cui le assimila è il medium? Guida Voi ascoltate le nostre parole, le modificate al vostro interno e quindi arrivano alla vostra coscienza portando nel caso una nuova comprensione Non accade molto diversamente per il medium perché le nostre parole possono sì arrivare alla coscienza del medium meno mascherate dall'aver attraversato le materie dell'io ma sono comunque interpretate dall'io del medium e alla fine il risultato è lo stesso Grazie 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 a tutti